Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del Tg6, riunione fiume fino a sera nella sede della regione in via Passo Lanciano sulla vertenza Brioni. Si tratta ad oltranza il servizio di Paolo Renzetti. Si fa in salita la vertenza Brioni Roma Style nella sede della regione Abruzzo in via Passo Lanciano a Pescara. Si è andati avanti ad oltranza, dopo ore d'incontro la rappresentanza della proprietà ha abbandonato il tavolo comune di lavoro per incontrare separatamente il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che non nasconde le difficoltà della trattativa. Spero che noi possiamo uscire questa sera da questa complicatissima trattativa non con la soluzione finale, questo non c'è ancora, ma con un ulteriore passo di avvicinamento verso una soluzione accettabile. Vorrei comunque spiegare ai cittadini abruzzesi che stiamo parlando di un dramma che riguarda centinaia, anzi quasi mille persone, perché vedersi ridotto l'orario di lavoro con la conseguenza di riduzione di salario non è una soluzione bellissima. E comunque alla fine alcune persone, spero il meno possibile, andranno a casa. Se poi noi riusciamo a ottenere il risultato che vogliamo, cioè che si vada a casa solamente quelli che ci vanno attraverso una decisione volontaria e con un incentivo, naturalmente è una cosa meno dura. Ma è comunque una cosa dura, che nasce naturalmente dal fatto che c'è una crisi reale, non è che qualcuno qui sta giocando. E io penso che se comunque alla fine ciascuno rinunciando a qualcosa dal suo punto di vista riusciamo a trovare un accordo, questo comunque per il territorio è meglio, perché se non si trova un accordo la vedo veramente pesante. Una volta che abbiamo messo in campo una mobilità volontaria e tutto il resto, qualora dovesse essere accettata, non da tutti i lavoratori contenuti nel perimetro, cosa succede a quei lavoratori che non lo accettano? Questo è il punto della questione che stiamo discutendo, che come voi capite si tratta di esseri umani, quindi è un punto molto molto serio. Intanto i sindacati puntano ad un incontro risolutore nella sede del Ministero a Roma. La Brioni si è ritirata nelle stanze dell'assessore perché praticamente la trattativa ha preso una bruttissima piega. Purtroppo per certi versi siamo tornati un po' indietro. Stiamo continuando a trattare, adesso dobbiamo valutare la situazione e eventualmente convocarci di nuovo a Roma. Non siamo in grado al momento di dire se c'è una soluzione in questo momento, noi speriamo che ci sia entro questa sera. Il Partito Democratico è incoerente, così si è espresso oggi in conferenza stampa il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano. Il tema, l'argomento è quello del referendum sulle trivelle. Partito Democratico è incoerente assieme a tutte quelle associazioni ambientaliste che hanno sfilato in corteo a Lanciano un anno fa contro Umbrina e che a due settimane dal voto non si fanno sentire, o addirittura è del caso del PD, da indicazione di astenersi. Fabrizio Di Stefano, deputato di Forza Italia, ribadisce il sostegno al sì per il 17 aprile e sottolinea il voltafaccia del Partito Democratico e dei sindaci che hanno sfilato con i gonfaloni dei propri comuni. Il disinteresse del governo Renzi al referendum del 17 aprile, aggiunge il deputato Forzista, si denota anche dalla scelta di non aver indetto l'Election Day a giugno, accorpando referendum amministrative con conseguente aggravio di 300 milioni di euro per la collettività, ma anche con il grande rischio dell'astensionismo. E soprattutto denunciano quella incoerenza che noi sempre abbiamo rinfacciato al PD di essere per l'ambiente in Abruzzo e contro l'ambiente in Roma. L'avevamo detto, addirittura la Regione Abruzzo ha fatto anche la magra figura che questo referendum è stato prima sottoscritto dalla Regione Abruzzo, dal Presidente D'Alfonso insieme agli altri nuovi presidenti di Regione che lo hanno sottoscritto e l'hanno portato avanti in tutte le sedi. E poi all'ultimo momento, per non far dispiacere Renzi, magari anche il Ministro Guidi e Boschi, si è defilato la Regione Abruzzo, unica Regione, vergognosamente si è defilata da questo quesito referendario e quindi non farà arrivare la sua prima e tanto più non sta facendo campagna referendaria. Noi invece riteniamo che la coerenza ha ancora un valore e quella coerenza che ci ha fatto essere contro questi impianti dentro le 12 miglia da sempre, che li abbiamo combattuti quando c'era il centro olico, l'ombrina e così via, li abbiamo combattuti sia sul territorio abruzzese sia a Roma con gli emendamenti che abbiamo presentato da tre anni in questa parte e riteniamo che anche oggi noi dobbiamo essere della stessa parte per coerenza e perché ci crediamo veramente che questa è la battaglia giusta. Non tanto hanno fatto gli altri, ma poi il cittadino giudicherà. Ancora un balcone crollato nel progetto case di Cese di Preturo a pochi chilometri dall'Aquila la stessa New Town dove a settembre 2014 venne giù un altro balcone cui seguì una inchiesta della magistratura che sequestrò l'intera area. Cese di Preturo, Piastra 20, alle mie spalle i balconi crollati che ieri mattina sono venuti giù nell'alloggio del progetto case. Di fronte c'è un'altra piastra sequestrata nei mesi scorsi dove si era già verificato un altro crollo. Evidentemente non è successo nulla alle persone in quanto tutto quanto il complesso di Cese di Preturo è stato sequestrato ma è evidente che i problemi strutturali si stanno palesando ogni giorno di più ed è necessaria una decisione su quale futuro destinare a tutte queste nuove New Town. Ancora un crollo e ancora Cese di Preturo. Ancora una volta alla vigilia dell'anniversario della tragedia del sisma il progetto case pensato e realizzato per dare un alloggio temporaneo agli sfollati mostra tutti i suoi limiti e le criticità strutturali. Sempre a Cese, già nel settembre 2014 un balcone venne giù da un appartamento con conseguente inchiesta e sequestro della piastra antisismica. Anche per questo ieri mattina una potenziale tragedia è stata evitata. Un nuovo balcone infatti è venuto giù schiantandosi su quello dell'alloggio sottostante che è poi stato rimosso. Una piastra diversa da quella di settembre di un anno fa ma stesso problema, legno fradicio è una struttura crollata dopo solo sette anni eppure si era detto al momento delle varie inaugurazioni delle New Town che le case antisismiche sarebbero durate almeno 30 anni. Per le operazioni di rimozione del balcone effettuate dai vigili del fuoco l'area è stata interdetta alla circolazione e ciò che emerge è che probabilmente saranno evacuate altre 12 piastre nelle prossime settimane a seguito dei rilievi effettuati dal comune criticità che riguardano complessivamente il 10% del patrimonio del progetto case che il comune sta pensando di ammattere anche se i costi 10 milioni complessivi per l'operazione il comune proprio non sa dover reperirli. Alla vigilia del settimo anno del terremoto dell'Aquila il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio dopo aver proposto e ottenuto nell'assemblea plenaria il rinnovo del patto di solidarietà tra tutti i consigli delle regioni italiane ricorda gli eventi in programma il 5 e 6 aprile. In occasione del settimo anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 sconvolse la città di L'Aquila e altri comuni della regione sono previste nel capoluogo due giornate commemorative. Il 5 con partenza ore 22 dall'altezza via 20 settembre Palazzo della Giustizia fiaccolata per l'Aquila il giorno dopo una serie di manifestazioni dove partecipa la presenza del Consiglio e quella delle ore 22 il 5 alle 11 la Santa Messa ufficiata dal Vescovo dell'Aquila alle 14.30 start up marcia per l'Aquila con partenza guardia di finanza. Intanto i presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome hanno rinnovato il patto di solidarietà che vide le regioni italiane collegialmente impegnate accanto alla sofferenza e al disagio materiale e spirituale delle popolazioni abruzzesi e di quelle di ogni regione segnata da calamità naturali. Già nel giorno 1 e 2 la presenza del Consiglio ha organizzato una plenaria a tutte le regioni d'Italia raccolte all'Aquila dove abbiamo approvato un documento anche che rinnova il patto di solidarietà quando accadono eventi così importanti ricordando soprattutto il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 dove tutte le regioni accorsero in segno di solidarietà non solo a parole ma con i fatti. Qui e lì abbiamo invitato anche i presidenti delle altre regioni a voler partecipare il giorno 5 alle ore 22 a questa marcia per l'Aquila. Sottoposto a sequestro preventivo su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara un centro tricologico di Città Sant'Angelo dopo che i carabinieri del NAS del capoluogo adriatico hanno accertato la mancanza dell'autorizzazione sanitaria. La struttura eseguiva attività sanitarie di trattamento del capello operando in carenza di autorizzazione così come previsto dalla legge 32 del 2007 norma che disciplina tutti i requisiti strutturali, tecnologici e igienico-sanitari che le attività del genere devono avere. Il centro nelle scorse settimane era stato oggetto di un'ispezione dei militari del NAS di Pescara cui è seguito un procedimento penale con un indagato che ha portato al sequestro odierno. I carabinieri di Chieti questa notte hanno recuperato una Fiat Punto che era stata rubata alla fine di marzo a Lanciano e al suo interno hanno rimenuto numerosi arnesi da scasso. Gli occupanti del mezzo invece sono riusciti a fuggire. Sono in corso indagini di natura tecnico-scientifica da parte dei carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Chieti per la individuazione di eventuali tracce utili alla identificazione dei fuggitivi che con molta probabilità sono gli stessi autori di altri furti messi a segno negli ultimi mesi in provincia di Chieti. Ed ora parliamo di politica alla vigilia delle elezioni amministrative dopo lo strappo consumatosi all'interno di Abruzzo Civico nasce MCA, Movimento Civico Abruzzese per mano dell'ex direttore del Tg1 Giulio Borrelli. MCA resta all'interno della maggioranza di governo in regione ma punta a conquistare spazio all'interno del civismo regionale. Nasce da una scissione MCA, Movimento Civico Abruzzese che è stato presentato ieri nel corso della convention il civismo oggi e domani tenutasi a Chieti. Alla guida di MCA c'è l'ex direttore del Tg1 già fondatore di Abruzzo Civico Giulio Borrelli ed assieme a lui mezzo direttivo dell'Italia dei Valori e pezzi da 90 della regione come l'assessore Gerosolimo i consiglieri Olivieri e Di Nicola. Nel frattempo gli ex compagni di partito capitanati dall'altro Giulio Sottanelli sabato pomeriggio hanno scelto il loro nuovo coordinatore regionale Michele Cassone dunque da oggi c'è un doppio binario del civismo in Abruzzo da un lato Movimento Civico Abruzzese dall'altro Abruzzo Civico una querelle pronta a proiettarsi nelle prossime amministrative vero banco di prova. In quelle realtà dove noi siamo presenti in modo significativo e riconoscibile che sono fondamentalmente poi vasto e sul mona noi pensiamo di ottenere un buon risultato ma in generale io penso che l'idea del civismo è quella che avrà il maggior consenso e il maggior risultato d'altra parte se gli stessi partiti nazionali spesso si nascondono sotto finte liste civiche su liste civette usano il civismo come foglia di fico noi che siamo come dire gli interpreti e i portabandiera di un civismo veramente autonomo dai partiti radicato profondamente nei nostri territori non possiamo come dire che essere quelli che in qualche modo hanno la prima genitura di questa idea soprattutto di un'idea di un civismo regionale Ridurre il rischio di incidenti su due ruote insegnando i giusti comportamenti e gli stili di guida tecnicamente corretti e prudenti è questo l'obiettivo dell'Agnacampus 2016 che ha scelto di coinvolgere gli studenti degli istituti superiori Federazione Motociclistica Italiana Polizia Stradale e l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici in pista per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale a due ruote la tappa di Pescara si aggiunge alle altre 15 che dall'11 marzo da Roma danno corpo all'Agnatur con i ragazzi delle scuole da anni svolgiamo corsi di educazione stradale sicuramente nel periodo in cui si svolgeva praticamente la preparazione del patentino in ambito scolastico abbiamo una riduzione della mortalità sul ciclomotore del 70% teoria, pratica, simulazioni e soprattutto le regole fondamentali per muoversi in sicurezza a partire dall'equipaggiamento che spesso è la parte più trascurata dai giovanissimi noi lavoriamo tanto sull'abbigliamento tecnico prima di tutto quindi sul casco è importante fargli scegliere un casco corretto nella misura corretta dopodiché lavoriamo sulle tecniche di guida sicura e sulle buone norme per mettersi alla guida quali sono gli errori più comuni? beh prima di tutto la posizione di guida viene sempre trascurata quindi spesso le mani sul manubrio le dita sui freni queste sono le principali cose che si vedono appena il ragazzino si siede sul motorino in pista tre piloti professionisti che spiegano come affrontare le manovre improvvise quelle che sempre più spesso sono causa di incidenti per inesperienza o superficialità noi qui partiamo proprio dalle basi quindi dall'utilizzo del fronte avanti all'utilizzo del fronte dietro allo spostamento del corpo dove facciamo un piccolo setting di agnesia iniziale poi fino ad arrivare alle vere situazioni di emergenza in situazioni di panico diciamo che le cose più problematiche sono il non completo rilascio del gas o l'utilizzo sbagliato della modulazione di frenata la polizia stradale attraverso una simulazione che rende difficile visuale movimento e percezione dei suoni riproduce l'effetto della guida in stato di ebrezza e le sue conseguenze per questo tour itinerante per far vedere ai ragazzi quali sono i pericoli che ci sono sulla strada fra questi c'è come ha detto lei la simulazione della guida in stato di ebrezza cioè il fatto di alterare artifaggiosamente i sensi dei ragazzi e fargli capire quali sono le difficoltà che si incontrano quando si torna a casa dopo aver consumato delle sostanze alcoliche 3 milioni di euro da parte della regione questo è un investimento per la realizzazione di tre caserme dei carabinieri nei comuni di Manoppello Loreto Aprutino e Giulianova un tavolo di lavoro per definire l'intesa interistituzionale per la realizzazione delle caserme dei carabinieri nei comuni di Giulianova Manoppello e Loreto Aprutino la regione Abruzzo annuncia di essere indirittura d'arrivo e la questione ormai si trova alla definizione degli ultimi dettagli oggi chiudiamo la parte finanziante poi partirà la parte di definizione delle progettazioni e poi di scelta del contraente abbiamo moduli molto spediti poiché parliamo di caserme che il ministero ha formattato qui abbiamo trovato soluzione a problemi di tre cittadine importanti anche per l'economia regionale operando sempre con la solita determinazione qualcuno dice spregiudicatezza ma se significa questo recuperare 20 anni di ritardo chiamiamo come vogliamo questo atteggiamento risoluto 3 milioni di euro questa è la spesa sostenuta per la realizzazione delle tre caserme che come aveva dichiarato il governatore d'Abruzzo rispondono alle reiterate richieste dei primi cittadini che da tempo lamentano a ragione l'assenza di adeguate strutture ospitanti le caserme nei propri territori ogni volta che c'è un problema senza aspettare le grandi teorie o le grandi teologie della programmazione ce ne facciamo carico uno alla volta così portiamo a casa risultati per la sicurezza dei cittadini a conclusione del percorso di gemellaggio culturale gastronomico il Gran Sasso e la Laguna Venezia e Crognaleto Sorelle del Gusto è stato siglato un importante protocollo di intesa per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro che consentirà agli studenti del Dipoppa di svolgere degli stage presso 400 prestigiose strutture ricettive del circuito alberghiero veneziano Si è concluso questa mattina con una cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati di partecipazione a docenti e agli alunni che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento promozionale delle eccellenze della gastronomia abruzzese nella città lagunare il percorso di gemellaggio culturale e gastronomico denominato Il Gran Sasso e la Laguna Venezia e Crognaleto Sorelle del Gusto Abbiamo avuto una parte importante diciamo in questo progetto però quando mi è stato prospettato dal sindaco di Crognaleta il mio amico Giuseppe D'Aronzo ho detto sì ne vale la pena abbiamo investito ne sono contento perché stiamo facendo conoscere il nostro territorio non soltanto il territorio ma i nostri produttori le nostre eccellenze di cui anche la scuola è un punto di partenza ci stiamo provando speriamo di centrare altri obiettivi successivamente Il progetto è nato da lei è stato realizzato grazie alla collaborazione del BIM ed è stato vinto grazie alla sinergia Una scommessa vinta grazie a tanta partecipazione istituzionale abruzzese e veneta ma soprattutto grazie alla grande come devo dire partecipazione del preside dell'istituto di Poppa dei professori che insomma hanno coadiuato tutta l'attività e soprattutto dei ragazzi hanno dato un'immagine dell'Abruzzo eccezionale Un risultato importante una partecipazione straordinaria l'obiettivo del progetto futuro qual è? È stato quello di far parte delle eccellenze del territorio le eccellenze del territorio sono stati i nostri alunni i nostri docenti i produttori i nostri piatti i nostri prodotti che ci hanno permesso di portare a Venezia una città così importante anche a livello turistico tutto quello che noi siamo riusciti a realizzare nel nostro territorio Il protocollo di intesa consentirà agli studenti dell'istituto di Poppa di svolgere degli stage presso 400 prestigiose strutture ricettive del circuito alberghiero veneziano Difendere la produzione italiana di olio d'oliva una eccellenza del mezzogiorno e in particolare dell'Abruzzo è stato questo il tema del convegno che si è celebrato a Pianella L'olio d'oliva italiano e tanto più quello abruzzese è messo nuovamente a dura prova questa volta la minaccia viene dal Parlamento Europeo che ha previsto un disegno di legge che andrà ad eliminare l'indicazione del termine minimo di conservazione dalle etichette noi non accettiamo che il governo italiano con un finto atto di solidarietà nei confronti della Tunisia in realtà permetta un'importazione senza tazzi di 70.000 tonnellate di olio che i grandissimi produttori andranno a tagliare con la produzione italiana spacciando tutto per Made in Italy questo non va bene perché colpisce duramente i produttori medi soprattutto della provincia di Pescara e soprattutto di questa zona della Valle Vestina che fanno un prodotto invece di altissima qualità Sindaci esponenti politici produttori consumatori associazioni di settore e consorsi hanno espresso la volontà di unire le proprie forze per evitare che uno dei prodotti di qualità che caratterizzano la nostra regione venga contraffatto portando gravi conseguenze a livello locale e nazionale a partire dalle piccole realtà agrarie fondamentali per la conquista di un futuro migliore questi provvedimenti sicuramente incidono sulla carne viva dei nostri produttori in questa stagione i nostri produttori stavano rialzando la testa da un'annata disastrosa e sicuramente questi provvedimenti non ci aiutano ma non siamo qui sicuramente per protestare o non solo per protestare contro un provvedimento che riteniamo intempestivo ed iniquo ma sicuramente per fare delle proposte noi abbiamo tutte le carte in regola per far diventare l'olio d'oriva il vero oro per questi territori apriamo ora la pagina sportiva e lo facciamo parlando subito di Pescara che già da ieri è al lavoro per preparare la partita di venerdì sera al partegno Lombardi di Avellino contro la squadra da poco allenata da Dario Marcolin per il tecnico Oddo sarà ancora emergenza formazione perché arriveranno le squalifiche dunque le assenze certe di Torreira Zuparic e Benali a cui si aggiungono anche le assenze degli infortunati Coda Crescenzi e Mazzotta e quasi sicuramente Campagnaro che ha subito una contrattura nel primo tempo della gara contro il Como la squadra dunque continua a lavorare dopo la seduta di scarico di ieri oggi lavoro al Poggio degli Olivi domani seduta pomeridiana ascoltiamo le parole del capitano Biancazzurro Leian Memushai Vittoria comunque importante perché bisognava dopo nove gare tornare al successo all'augurio che questa vittoria possa essere servita anche per sbloccare psicologicamente la squadra visto che molti dicevano che era un problema soprattutto psicologico Sicuramente una vittoria come avevo detto prima che ci voleva ora però bisogna continuare perché se no non servirebbe a niente speriamo che sia d'auspicio abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo il secondo ci sta di soffrire l'importante era vincere perché abbiamo giocato altre volte dove abbiamo giocato bene e abbiamo perso ora a questo giro magari il secondo tempo abbiamo giocato un po' meno bene però abbiamo vinto Cosa è successo al novantunesimo quella gigantesca rissa tanto nervosismo anche negli ultimi minuti c'è stata l'espulsione di Ben Ali perché c'è stata questa rissa? Purtroppo sono cose di campo che non devono accadere però ci stanno fanno parte del gioco e arrivare al novantesimo a essere lucidi è impossibile Purtroppo dispiace però anche Ben ha fatto male a reagire però un po' lo capisco perché ha preso un calcio al novantesimo e dura al novantesimo essere lucidi in queste giornate hanno inventato talmente tante storie assurde quindi è un peccato perché questo gruppo qua è un gruppo eccezionale fantastico e anche quando c'è stato delle cose non vere non si è mai abbattuto è sempre stato sul pezzo purtroppo i risultati non ci hanno dato favore e tifosi nuovamente penalizzati perché la trasferta di Avellino è stata vietata alla tifoseria Bianca Azzurra in generale a coloro che risiedono in Abruzzo non sarà possibile appunto acquistare il tagliando per la partita del partegno Lombardi di venerdì sera per quanto riguarda la Virtus Lanciano oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti mancava ma per una buona e giusta causa il centrocampista Armin Bacinovic che è diventato papà per la seconda volta e rientrerà domani a Lanciano permesso personale anche per Marilungo lavoro di scarico per Amenta e Rigione mentre sono tornati a lavorare con il gruppo e dunque saranno verosimilmente a disposizione se non avranno ricadute i giocatori Salviato e Di Francesco ora scendiamo in Lega Pro per vedere il servizio del pareggio del Fattori ieri all'Aquila 1-1 tra la formazione di casa e la Maceratese guardando la classifica un punto prezioso per l'Aquila contro la Maceratese terza forza del campionato a conti fatti però i rosso-blu di Perrone possono recriminare per diverse azioni da gol cestinate nel finale e per un atteggiamento che ha fatto difetto in aggressività per una buona parte della contesa Perrone conferma a sorpresa il 3-5-2 di Teramo cambiando però in difesa con l'innesto di Maccarrone per Piva dirottato come quinto di centrocampo al posto di Ligorio davanti confermato il tandem San Domenico-Perna anche oggi fischiato per diverse imprecisioni sottorete partita poco vibrante ricco possesso palla della Maceratese che però non riesce a trovare sbocchi la chance più ghiotta capita sulla testa di Perna dopo la mezz'ora che dalla sinistra raccoglie un traversone schiaccia di testa forte battuto in uscita ma non c'entra il bersaglio nel finale arrivano i due gol che sigilleranno il punteggio sull'1-1 prima Maccarrone si rende protagonista del vantaggio della Maceratese buon aiuto crossa da sinistra il centrale siciliano per anticipare il tapin di Couco fa centro nella propria porta in scivolata 0-1 e buio pesto sugli spalti del fattori i rosso-blu però hanno il merito di reagire immediatamente Minicevic dirottato playmaker con Mancini Mezzala ci prova dalla distanza sul rimpallo Perna si avventa sul pallone e anticipa in uscita forte che lo abbatte ingenuamente penalty per l'Aquila sul quale va lo stesso Milicevic sotto gli occhi del presidente del Pescara Sebastiani e fa centro dagli 11 metri per l'1-1 nella ripresa c'è più brio la Maceratese sale di intensità atletica l'Aquila invece scende dal punto di vista fisico e non riesce a ripartire al diciottesimo Couco serve sul dischetto del rigore Bonaiuto che cestina il nuovo vantaggio degli ospiti poco più tardi Milicevic va via in tunnel scorribbanda fino al limite dell'area poi San Domenico si fa rimpallare la conclusione sul proseguo dell'azione Perna poi la mette fuori al lato di testa ci riprova ancora la Maceratese con Couco Mascotti risponde presente in tuffo i rosso-blu sembrano alle corde Perrone allora si ricorda dei cambi e dopo la mezz'ora fa entrare prima Benzaglia per un applauditissimo Milicevic quindi Triarico per Perna nel ruolo di trequartista dietro San Domenico è la mossa vincente l'Aquila colleziona due grandi occasioni in sequenza prima Triarico sguscia sulla sinistra serve un cioccolatino per Bulevardi che in sforbiciata chiama l'intervento in angolo forte poi Maccarone esce palla al piede serve San Domenico il cui diagonale rasoterra viene deviato in modo provvidenziale dal portiere marchigiano è l'ultimo sussulto finisce 1-1 per l'Aquila un punto importante ma che peccato perché si poteva prendere il bottino pieno in casa Teramo si è ripreso a lavorare quest'oggi con una singola seduta in vista della partita di Siena di sabato prossimo da valutare ancora le condizioni dei giocatori infortunati che hanno saltato il match con il Rimini ovvero il capitano Ivan Speranza il centrocampista Diego Cenciarelli la salvezza virtuale è comunque in tasca c'è comunque l'amaro in bocca per come è arrivato il pareggio con la compagine romagnola e di questo parla anche il centrocampista Michel Cruciani hanno un po' balordo tra Benevento e qui Benevento quattro traversi qui non riesco mai ma un pizzico neanche un pizzico con più di fortuna soprattutto il primo tiro penso che se non l'avessi deviato entrava sicuro nonostante deviazione è uscita un pelo da palo e vabbè speriamo che prima o poi mi gira un po' meglio penso che sotto l'aspetto di azioni da gol sotto ecco quello sì però penso che la voglia di far bene di poter provare a vincere la partita quella è sempre stata siamo stati ingenui ingenui perché hai detto bene in una domenica in una partita diciamo che fai fatica a trovare conclusioni fatica a trovare viete per tirare in porta riesci ad andare in vantaggio non si può prendere dopo 30 secondi sicuramente dovevamo fare qualcosa di più però è la penso che sia come tutte le altre partite ancora una volta con un tiro in porta abbiamo preso gol poi puoi farne di meno tu però penso che su 90 minuti tieni polla non dico 90 ma 85 minuti tieni polla tu poi in una partita un po' di più una partita un po' di meno trovi magari però siamo sempre stati poco fortunati questo è la verità c'è poco da dire e ingenui perché oggi siamo stati ingenui anche la 29esima giornata regala poche soddisfazioni alle abruzzesi di serie D il pari tra Giulianova e Chieti non serve a nessuno sconfitte invece per San Nicolò Amiternina ed Avezzano un'altra domenica senza soddisfazioni per le squadre abruzzesi in tre perdono e le due che si sono scontrate tra di loro hanno generato un pareggio che per quanto pirotecnico perché ricco di gol e di rovesciamenti di risultato ha il sapore di una sconfitta per entrambe Alfadini è 3-3 fra Giulianova e Chieti pari che appunto non serve a nessuno ai giallorossi che non riescono a rosicchiare punti dal penultimo posto il divario resta di 7 punti dalla folgore resta solo da attendere il verdetto della matematica retrocessione al debutto in panchina della coppia Dragone e Scarpantoni al posto di un'altra coppia Gelsi e Pisano da salvare c'è la prestazione d'orgoglio tenuto conto delle note problematiche societarie che continuano a minare l'equilibrio del gruppo delude il Chieti che anche sul campo dell'ultima della classe fallisce l'ennesimo tentativo di centrare una seconda vittoria consecutiva non è bastato segnare tre reti e portarsi in vantaggio dopo una doppia rimonta le residue velleità a playoff vanno così in fumo come il Giulianova anche la Meternina ha più di un piede e mezzo in eccellenza contro la Iesina servivano i tre punti ma si è capito da subito con l'autorete di Santilli che la giornata sarebbe stata di quelle storte Terriaca ha riaperto uno spiraglio ma il guizzo di Sassaroli in pieno recupero sta di condanna definitiva la cura di Felice in panchina non ha sortito effetti per la squadra di Scoppito ora tre derby con la necessità di fare il pieno per poter sperare sono più indolori le sconfitte di San Nicolò e Avezzano i marsicani mantengono il più tre sulla zona play out nonostante il K.O. di Fano propiziato dalla zampata di Ambrosini buona la prestazione dell'undici di Lucarelli poco fortunato nei momenti topici della gara la salvezza passa per i prossimi tre sconti diretti Folgore, Isernia e Amiternina il primo e il terzo da giocare nel fortino del Dei Marsi il San Nicolò va a tappeto a Isernia a causa di un rigore inesistente resta però la prestazione sotto tono dell'undici di Epifani incapace di reagire il pari della Recanatese non compromette però la rincorsa al quinto posto del San Nicolò che lunedì avrà a disposizione lo sconto diretto del Bonolis per effettuare il sorpasso il basket Teramo 2015 si aggiudica in volata una tiratissima gara 3 e accede così alla finale di C-Silver contro l'Airino Termoli esce a testa alta una coriacea a palacanestro Silvi che ha carezzato il sogno di espugnare nuovamente il palascapriano fino agli ultimi possessi di seguito il resoconto di una partita condita anche da due blackout all'impianto elettrico probabilmente la sceneggiatura dell'ultimo atto della semifinale playoff di C-Silver tra basket Teramo e palacanestro Silvi vinta dai biancorossi 72 a 70 con un canestro allo scadere di Enrico Caeta non sarebbe affatto dispiaciuta al regista spagnolo Luis Buñuel o al gentiluomo inglese Alfred Hitchcock perché è stata il giusto mix tra il thriller con una punta di surreale e perché no anche di grottesco ci riferiamo ai due blackout che hanno fermato l'incontro rispettivamente all'inizio del secondo e del terzo quarto e che hanno fatto tremare non poco il pubblico di casa per un'eventuale sconfitta a tavolino che sarebbe stata automaticamente sancita dalla coppia arbitrale se l'impianto elettrico del Palas Capriano avesse ceduto una terza volta le luci però non si sono spente ed hanno invece schiarito e reso evidente una considerazione Silvi esce da questa serie a testa altissima e questa serie l'ha persa con la consapevolezza di aver messo seriamente alle corde un avversario molto più forte competitivo e con un roster profondo un'immagine chiara della partita è il break micidiale di 15 a 0 nel terzo quarto che ha permesso ai ragazzi di coach Tom Dalberto di recuperare lo svantaggio di 13 lunghezze subito nel primo tempo andando in vantaggio anche di 7 punti a pochi minuti dalla fine del match salvo poi pagare le uscite per falli di due giocatori chiave del quintetto base io ringrazio tutti questi ragazzi che hanno lottato dal primo all'ultimo minuto abbiamo avuto la partita in mano non gli posso rimproverare niente ci sta una partita del genere con questa tensione qualche pallone che puoi gestire nei momenti importanti con la squadra giovane come siamo sono contento do i complimenti a Termo e gli auguro un bocca al lupo per le finali e siccome mi hanno battuto spero che vincano loro la finale così sappiamo che abbiamo perso con la migliore del campionato dall'altra parte il basketter abbiamo evitato all'ultimo secondo una clamorosa eliminazione e l'ha fatto sfoderando una prova di carattere negli ultimi palpitanti minuti merito soprattutto delle stelle tra virgolette biancorosse che hanno fatto prevalere le loro capacità tecniche per poter completare un'isperata rimonta adesso giocaremo questa finale con Termoli senza la pressione che avevamo adesso sicuramente perché adesso può succedere di tutto possiamo perdere possiamo vincere però sicuramente la condizione emotiva sarà nettamente diversa da questa semifinale finisce qui il TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione buonanotte grazie per l'attenzione